Dal primo giugno il Friuli, il Molise e la Sardegna entreranno in fascia bianca. Dalla settimana successiva poi toccherà ad Abruzzo, Veneto e Liguria. E poi, in base al monitoraggio dei dati del 28 maggio, che includono le tre settimane precedenti, ci sarà il nuovo elenco di arie che potranno entrare in fascia bianca dal 14 giugno. E tra queste potrebbero esserci Lombardia, Lazio e Umbria, in forse la Campania. La regione infatti, nonostante sia facendo registrare un calo significativo di contagi negli ultimi giorni, resta comunque tra le regioni che hanno un numero elevato di casi quotidiani rispetto alla media nazionale. Ma soprattutto è l'incidenza dei contagi il parametro che potrebbe impedire alla Campania di passare in zona bianca. Intanto da oggi si sono aperte le prenotazioni sulla piattaforma regionale per quanti appartenenti alla fascia d'età 30-39 anni vorranno vaccinarsi nel corso della non-stop organizzata dall'Asla Napoli 1 Centro per questo weekend. Infatti, appena terminate le vaccinazioni della giornata di sabato 22, prenderà il via un anno-stop che consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito. I centri aperti per l'anno-stop saranno Angaratitec di Capodichino e la Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta. Le vaccinazioni inizieranno alle 21 di sabato e termineranno alle 7 di domenica mattina. E a Ischia, Procida, arriva il bollino per le aziende turistiche Covid Free. L'iniziativa dell'Asla Napoli 2 Nord della Regione nasce per certificare la vaccinazione del personale di alberghi, ristoranti e stabilimenti balneari delle isole.